eccoci qui e niente ragazzi sono sono tornato a rieti e sono ancora tutto un po scombussolato vado a dormire tardi mi sveglio tardi mangio tardi ho gli orari ancora della casa e si vede però ci tenevo a ringraziarvi a tutti quanti a tutte quante perché ho trovato dei messaggi bellissimi che mi hanno mi hanno emozionato e mi hanno aiutato anche vi devo dire la verità non me l'aspettavo e niente questo per me è una cosa che mi riempie il cuore perché è la cosa più importante era quello per cui per cui sono entrato e quindi niente vi mando un abbraccio e un bacio grandissimo ciao ciao